Missione compiuta. Dopo le ferite del sisma, la chiesa dei Cappuccini è stata riconsegnata agibile e messa in sicurezza in tempo utile a celebrare la messa della vigilia di Natale. In meno di una settimana di cantiere, la ditta pesarese Mercolini e Torelli ha messo davanti a tutto il valore della comunità e si è rimboccata le maniche in autonomia per completare i lavori. Una generosità che non è passata inosservata al comune di Pesaro, che oggi ha conferito il plauso della città nelle mani dei co-titolari d'impresa Matteo Mercolini e Fabio Torelli. Il sindaco Ricci e l'assessora Franco Ellucci hanno premiato un gesto di grande cuore avvenuto grazie alla tempestività, alla dedizione e alla competenza di un'attività pesarese mossa da enorme spirito di solidarietà. È andato bene, ci siamo riusciti nella settimana di Natale quando ci eravamo visti, siamo riusciti a completare il lavoro, fortunatamente il tempo ci ha dato una mano e noi ci abbiamo messo ovviamente del nostro tanto impegno ed è un grande orgoglio per noi e per tutti i ragazzi, i nostri collaboratori dipendenti, aver ricevuto questo premio. E se alla vigilia di Natale ha riaperto la chiesa dei Cappuccini, nel giorno di Santo Stefano è stato invece lanciato un appello per ripristinare anche la pieve di Candelara, chiesa del VI secolo, una delle più antiche della città che allo stesso modo è transennata dal 9 novembre quando ha subito crepe e danni strutturali ingentissimi dalle prime scosse di terremoto. A lanciare una petizione Roberto Malini e il Comitato Pesaro Città d'Arte e Cultura per non lasciare cadere nel dimenticatoio un patrimonio architettonico e un luogo comunitario delle colline e i castelli con i parrocchiani attualmente trasferitisi nella chiesa di Santa Maria dell'Arzilla. Messaggio che è stato recapitato fra gli altri all'Arcidiocesi a Monsignor Sandro Salvucci e alla soprintendenza per i beni architettonici del Vaticano.